buonasera a tutti benvenuti a questo workshop di formazione eh Bartolomeo tu hai il microfono puoi attivarlo quando vuoi eh sei sei già insomma autorizzato per tutto quando puoi entrare quello che vuoi e faremo questa introduzione sulla tecnologia S drive e poi la formazione a cura del dottor Bartolomeo Allegri eh molti di voi so che sono nuovi alcuni sono nuovi hanno voluto partecipare per capire anche eh come si utilizza S drive cos'è S drive e allora farò una piccola introduzione molto veloce perché questo è un eh è un corso dedicato alla formazione e interpretazione dell'S drive e come si usa S drive e i casi critici. L'S drive ha un software a disposizione che viene scaricato sul computer eh e ha una tecnologia che come sapete è un un dispositivo portatile è molto semplice e alcuni di voi hanno visto perché hanno fatto anche il test quindi molto semplice che eh si collega al software e al computer e ed è in grado di mappare grazie a un biomarker che è il bulbo del capello i vari fattori epigenetici. Eh ripeto sempre attenzione a parlare di test epigenetico perché questo ecco eh si può dire scorretto poi eh per velocizzare alcuni lo utilizzano però io amo invece essere sempre preciso e di parlare e quando si parla di tecnologia S drive una tecnologia in grado di mappare i fattori epigenetici che possono danneggiare la salute delle nostre cellule oppure essere utili alla funzionalità delle nostre cellule. A questo proposito ehm dobbiamo sempre partire da eh proprio eh da una presentazione che che molti di voi hanno già visto ma che ho rafforzato con delle cose interessanti per fissare dei concetti. Innanzitutto oggi come oggi si parla di moltissimo di longevità eh ho visto corsi che nascono come i funghi no sulla longevità e e e l'epigenetica. Chissà perché da otto o sette anni da quando ho lanciato questo eh progetto sulla sull'epigenetica si vedono sempre corsi di epigenetica o qualsiasi cosa sull'epigenetica. Io penso che dobbiamo anche eh fare chiarezza su quello che che poi è la funzionalità soprattutto legata alle nostre cellule. Cioè se noi non abbiamo poi la possibilità di intervenire a livello cellulare eh può essere un problema. Perché? Perché innanzitutto devi conoscere quello che serve alla cellula e poi devi conoscere quello che danneggia la cellula. La domanda che faccio è che strumenti abbiamo oggi? Che strumenti avete voi professionisti oggi per capire quali siano i fattori che possono danneggiare una cellula? A parte le analisi del sangue, a parte le analisi sulle urine e qualsiasi altro test oppure la lipidomica eccetera. L'altra domanda è ma le cause di questo stress a livello cellulare poi alla fine quando uno ha un dato quale sono? Qual è la causa e la concausa? Parto sempre da questa slide perché questa è quella che ci eh ci può eh aprire il mondo proprio della funzionalità delle cellule che funzionano grazie alla respirazione mitocondriale e grazie allo rapporto di ossigeno e a quello che noi mangiamo e al nostro stile di vita per produrre quell'energia indispensabile per la vita. Allora partiamo dal presupposto che se noi non ci preoccupiamo di far arrivare l'ossigeno, di consumare l'ossigeno e di far arrivare anche nutrienti specifici, questo eh depaupera la produzione di energia a livello mitocondriale e cellulare. E di lì inizia quella che molti di voi chiamano infiammazione silente, no? O di basso grado. Chiaro che da qui si apre un mondo. Eh voi professionisti siete abituati a consigliare un'alimentazione ottimale, di vivere un ambiente sano, di avere uno pensieri e emozioni sane. Ecco qua già dire si salvi chi può. Ma poi ci sono tanti fattori come vedete che comunque condizionano la salute delle nostre cellule. Quando parliamo di stress ossidativo e eh questo è una tabella eh che gentilmente è concessa dall'osservatorio internazionale dello stress ossidativo guardate lo stress ossidativo è legato a eh più di cento patologie accertate. Dico bene quando tu conosci lo stress ossidativo o la capacità antiossidante del tuo organismo per contrastare l'eccesso di radicali liberi. Qual è la causa di questo stress ossidativo? Qual è la causa o con causa? È l'ambiente? È la capacità antiossidante? Sono le emozioni? È il sistema gastrointestinale? È il sistema emozionale quindi? È il sistema ormonale? Cos'è che sta facendo aumentare lo stress ossidativo? I radicali liberi. Perché poi sappiamo che guai a bloccare i radicali liberi perché sono anche le nostre sistemi di difesa? Sappiamo che le patologie iniziano a livello cellulare. Sappiamo che questa è la vera epigenetica. La vera epigenetica viene trasmessa alle future generazioni grazie al fatto che noi scarichiamo un'app al momento del concepimento di tutto quello che è stato fatto dai nostri genitori. Ma cosa stiamo facendo oggi per tutelare la salute dei nostri genitori? Che strumenti abbiamo a disposizione? Abbiamo strumenti per trovare problemi o abbiamo strumenti per prevenire i problemi. L'inquinamento ormai è trasversale. Io dico sempre si salvi chi può perché viviamo in un acquario sempre più inquinato, come i pesciolini che non vorremmo mai che vivessero in questo tipo di acquario, però giornalmente mettiamo nel mesenchimo, nel tessuto connettivo, dove vivono le nostre cellule una quantità di sostanze chimiche veramente che sta diventando una pandemia. La matrice extracellulare è sempre più intasata, inquinata, le cellule che comunicano poco, il fatto che gli organi montori non funzionano in maniera ottimale, oppure non c'è abbastanza drenaggio. In effetti l'epigenetica è una vera e propria rivoluzione, perché se noi parliamo e pensiamo alla nostra salute come il DNA, stiamo parlando del 2-10%. Se parliamo di epigenetica parliamo del 98%, quello che veniva chiamato DNA spazzatura, allora possiamo fare molto con il 90% di informazioni che stanno condizionando la salute delle nostre cellule. Ed ecco che se noi proponiamo, per chi ha già S-Drive, so che ci sono tantissimi centri oggi con noi, proponiamo questo concetto finalmente di capire che questo strumento in fase di anamnesi può essere utilizzato per migliorare l'anamnesi e magari indirizzare il professionista ad approfondire con altri sistemi, naturalmente, compreso analisi del sangue, eccetera. Questo non è uno strumento di diagnosi, la diagnosi la fa il medico. Però c'è un effetto cumulativo di stress, che lo sapete, dallo stress psicofisico, attività fisica sbagliata, troppa o poca, ai ritmi sonno-veglia. Mi accorgo sempre più oggi che tu parli con le persone, anche professionisti, medici, io non dormo e io ho problemi addormentati. Insomma, problemi legati al ritmo sonno-veglia sono veramente tantissimi. Ma cosa dire del fabbisogno giornaliero di vitamine e minerali e non solo aminoacidi, eccetera, acidi grassi essenziali, però, nessuno ne tiene conto. Cioè, noi li consumiamo giornalmente e se non li mangiamo o non li assimiliamo c'è un problema. Quindi c'è una carenza, spesso. E sappiamo che quanto sia importante la varia funzionalità dei vari nutrienti, eppure se ne tiene poco in considerazione. Sono molecole di segnale, sono indispensabili a livello epigenetico, ma di funzionalità della cellula. Il ritmo sonno-veglia ne ho già parlato. Possiamo scegliere una vita e un ambiente migliore? Io sfido chiunque a far cambiare ai vostri pazienti città, casa e lavoro. Non è possibile. Continuano a respirare sostanze chimiche altamente tossiche, continuano spesso a fumare direttamente o indirettamente col fumo passivo sostanze nocive e a mangiare dei cibi sempre più contaminati. E poi a bere un'acqua sempre più contaminata. Quindi cosa possiamo fare? Questo è quello che ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pensate, già nel 2004, ci dice che secondo il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'esposizione ha inquinamento atmosferico, fumo passivo, radon, raggi ultravioletti, amianto e altri inquinanti è all'origine di oltre il 10% di tutti i casi di cancro in Europa. e di fibromialgia, stanchezza cronica, ictus, infarti, sclerosi multipla, eccetera, eccetera. Pensate che qui si stima a 178 miliardi di euro solo nel 2018 di spese. Questa è la causa dell'inquinamento. Questo è quello che crea. Vi parlo solo del bisfenolo, perché è veramente impattante. È interferente endocrino. Quindi, quello contenuto in tutte le plastiche, delle acque che beviamo, dei filtri, dei conservanti, delle merendine, tutto ormai è plastica. E questo sta sprogrammando la vita già a livello fetale. Andate su Google, Istituto Superiore di Sanità, scrivete bisfenolo e vi assicuro, io sono molto preoccupato. La dottoressa Nava, altrettanto, invita tutti a parlare con i vostri pazienti di questa grave mancata informazione. Plastica, mangiamo una carta di credito a settimana. Infertilità sta arrivando al 60%. Perché? Perché abbiamo oltre 200 terre dei fuochi conosciute in Italia da bonificare. Siamo a 1.24 di nascita. Capite? Secondo la Società Italiana di Riproduzione Umana, dove troviamo microplastiche nello spermo umano. E io dico, ma cosa stiamo veramente facendo assieme? Ecco perché questi workshop possano anche un'occasione di dire, uniamo le forze. Siamo a 1 su 36 di indicazione di malati, di nascita, con bambini, dall'aspetto autistico, dove già sappiamo che è tutta una questione di programmazione epigenetica a livello fetale che viene trasmessa alla seconda, terza, quarta, quinta generazione. Anche la terosclerosi è una malattia epigenetica. Andate su PAMED, ci sono sull'epigenetica invecchiamento 9.000 lavori, ma sull'epigenetica ci sono 145.000 lavori già. E come stiamo colmando questo gap tra la pratica clinica e quello che viene insegnato all'università? Questo è quello degli studi sull'epigenetica. Guardate dal 58 al 2024. E ancora, fattori epigenetici, 54.000 lavori scientifici. Siamo ormai in una situazione veramente allarmante, delle malattie croniche che sono al 40% della popolazione, 24 milioni di italiani, dall'obesità alle malattie degenerative. Cosa stiamo facendo per risolvere questi problemi? Legati al concetto proprio dell'epigenetica, che è la riprogrammazione delle nostre cellule. Ce lo dice l'Aerce, attenzione. Noi studiamo come l'esposizione a questi fattori può condizionare la salute delle future generazioni. Io dico, ma non devi più studiare i problemi, devi risolvere i problemi. Perché se ancora stiamo facendo e cercando di dimostrare che il fumo passivo fa male e che il fumo attivo fa male, che l'inquinamento fa male, penso che non riusciamo più. Continuiamo a fare della ricerca per dimostrare e confermare gli studi di cui sopra lo sappiamo. Ecco perché gli indicatori epigenetici che si può portare a sé drive sono veramente importanti in un approccio clinico integrato, dove la metabolomica ormai è fondamentale. Però noi vogliamo fare prevenzione. Perché se facciamo solo metabolomica non conosciamo i problemi, dobbiamo unire. Va bene, magari parte i costi di fare una metabolomica completa. Noi dobbiamo conoscere i fattori che ci proteggono e quelli che ci fanno ammalare. Dobbiamo, come ci dice il premio Nobel alla medicina Blackburn, 253 lavori scientifici, quindi penso che sia molto affidabile e credibile quanto afferma. Ci dice che questo fa accorciare i telomeri, questi fattori, già nella pancia della mamma. Cosa stiamo facendo? Ci sono ragazze che fumano sempre più a 10-11 anni, senza parlare di sostanze stupefacenti, di alcol, di tatuaggi, di ambiente inquinato, di stile di vita sbagliato. Quindi, dov'è la rimetilazione del DNA? E basti pensare a quanto ancora poco c'è di consiglio di questo test, l'omocisteina controllata da vitamine che possono comunque controllare questo fattore importante, perché tutto viene sprogrammato a livello fetale. Gli istruttori endocrini sprogrammano la vita a livello fetale. Guardate il fumo che danni provoca già in gravidanza e poi a livello polmonare. Eppure vendono sigarette. E questa è la follia. Io dico, ma vendono sigarette come vendono la droga per strada. È vietata, però in qualsiasi angolo delle città c'è droga. Quindi, è un po' veramente, siamo al paradosso. Grazie alla professoressa Feno che ci segue con l'Università di Sassari, stiamo facendo questo studio importante sui centenari. Già abbiamo visto la differenza tra chi è in un RSA centenario a chi vive in famiglia e sta continuando a fare l'attività e vivere in un ambiente dove ha sempre vissuto. E quindi il nostro obiettivo è unire le forze e portare sempre più dati. Qui ancora i medici in famiglia stanno portando nella loro organizzazione questo test epigenetico per proprio capire quali siano i fattori che possono danneggiare la salute dei loro pazienti. Quindi anche questo per noi è un fatto di orgoglio. Quindi sempre più malattie. La telosclerosi ve lo dico è anche una malattia epigenetica dei reali rischi congeniti delle costituzioni ne parlerà il dottor Bartromeo Allegrini il fatto che ormai i campi elettromagnetici sono una pandemia ma i nostri ragazzi continuano a dormire col cellulare sotto il cuscino o sul comodino ma anche noi magari. Io no perché l'ho tolto dalla stanza spengo il wifi prima di andare a dormire però guardate cosa stiamo facendo ai cervelli stiamo aumentando l'elettrosensibilità delle persone e la sensibilità chimica delle persone. Stiamo lavorando questo è uno studio del 2016 pubblicato dall'European dagli medici per l'ambiente ci dice che tutto quello che vi sto dicendo aumenta lo stress nitrosativo e ossidativo danno ai mitocondri infiammazione e malattia. Cosa stiamo facendo per evitare tutti questi fattori per conoscermi? Penso che la tecnologia S-Drive possa incominciare anche a farci conoscere i danni magari mitocondriali di quei fattori utili per riattivare i mitocondri proteggere i mitocondri perché grazie ai mitocondri noi possiamo salvaguardare e proteggere e aumentare il nostro sistema umanitario già giusto apporto di ossigeno sapete è fondamentale ma glielo diamo ai pazienti o in fase acuta con l'ossigeno zonoterapia interessante oppure con la mascherina quando sono in fin di vita dovremmo incominciare a modulare l'ossigeno e migliorare la produzione di ATP con dei modulatori e voi sapete che da sempre noi divulghiamo Selfie uno dei prodotti più importanti al mondo per ossigenare le cellule e questo questo anno facciamo 25 anni in Italia lo festeggeremo anzi siete tutti invitati 7-8 settembre a Bologna per 55 anni nel mondo 25 anni in Italia di questo nutraceutico straordinario quindi dovremmo incominciare a fare una medicina personalizzata predittiva preventiva partecipativa la domanda è questa ma se l'epigenetica condiziona la salute dell'intera generazione cosa stiamo facendo per evitare il danno di tutti questi fattori beh alcuni usano la risonanza magnetica per fare delle delle indagini importanti e pochissimi sanno che questa è medicina quantistica questa è biorisonanza durante la risonanza magnetica il paziente viene a trovarsi all'interno di un campo magnetico anche 10.000 15.000 volte superiore è il campo magnetico terrestre che guarda caso va in risonanza con le cellule e questo è medicina quantistica è biofisica ma anche questi strumenti non ho messo l'elettrocardiogramma non ho messo altri strumenti ma è tutta medicina quantistica ma perché perché noi produciamo energia se produciamo energia produciamo anche corrente e campo magnetico quindi abbiamo un campo magnetico che può essere delle cellule anche degli organi dei tessuti che può essere misurato basti pensare a uno spettome che misura proprio gli stati vibrazionali della materia come ci insegna la professoressa ferrante dell'università di Padova noi utilizziamo il capello come biomarker il bulbo del capello ancora molto più preciso ma siccome la tecnologia S-Dry viene utilizzata nello studio questo può essere considerato un test in vivo non in vitro che mando in giro i capelli in vivo cioè entro tre minuti anzi meno un minuto viene fatta la scansione viene inviato il dato al centro di vibrazione dati ad Hamburgo e pensate questo test viene poi dato al professionista solo dopo 12 minuti il capello è inutile che vi ricordi è uno dei biomarker più importanti in grado di archiviare tutte queste informazioni viene utilizzato per l'esposoma delle persone viene utilizzato vedete è proprio dentro la matrice quindi ha questa antenna in grado di ricevere i segnali dall'interno del corpo quindi microambiente e macroambiente esterno il capello viene utilizzato dalla NASA per le salute degli astronauti viene utilizzato per i disturbi psichiatrici perché addirittura è utilizzato anche come miglior biomarker del cortisolo ecco perché poi con l'S-Drive riusciamo a capire il sistema emozionale salute cerebrale stressogeno eccetera perché incominciamo a avere una panoramica una visione come un GPS di tutti questi fattori l'S-Drive è questa questa è la tecnologia abbiamo dei report personalizzati dal benessere ottimale allo sport all'antiaging dove ci viene indicati anche i sistemi che hanno bisogno di essere di supporto e quindi è un grande valore aggiunto al servizio del professionista un posizionamento nel campo della salute un'avanguardia report facile da capire e interpretare pensate che siamo arrivati ormai a 400 centri in Italia 400 quindi una guida all'alimentazione funzionale alla nutrizione funzionale all'integrazione funzionale partendo da quello che sono le vitamine a cosa servono le funzioni i sintomi di carenza quindi se mi serve una B1 perché mi dai la B12 perché è una moda se mi serve il boro perché mi dai il cromo e via così S-Drive è in grado di orientare il professionista a comprendere meglio quelli che sono i bisogni delle cellule di quel paziente quindi una terapia di precisione scusate un approccio di precisione personalizzato predittivo preventivo partecipativo è anche lo stesso sugli acidi grassi essenziali sul sistema antiossidante sul sistema gastrointestinale vedremo dei casi clinici portati dal dottor Bartolomeo Legrini quanto è importante questo test per orientare il professionista per capire se una persona è sensibile ai campi elettromagnetici e quindi può avere un probabile danno mitocondriale o alla membrana cellulare per sapere se è intossicata a sostanze chimiche drocarburi radiazioni metalli tossici quindi intervenire e poi guardate questo è quello che noi offriamo S-Drive può avere un report per il benessere ottimale sistema immunitario per il metabolismo è una pagina in più dedicata al metabolismo rispetto a questa il report per gli sportivi per chi si occupa anche di medicina sportiva un report questo è una novità assoluta sul chi fa per i nutrizionisti per la dieta Child and Baby per il bambino da 1 ai 12 anni per ringiovanire le cellule per la gestione dell'età e dell'estetica per ottimizzare la funzionalità la salute dei capelli della pelle e poi anche in veterinaria so che stasera ci sono anche dei veterinari con noi su cani e gatti poi c'è anche il cavallo per chi si occupa di veterinare nei cavalli quindi un indice poi noi diamo tutto supporto materiale anche proprio didattico per capire le funzioni delle vitamine e minerali per partire dalla prima pagina che è quella della pagina 3 riassuntiva dove ci fa capire dove sono le priorità di intervento per il professionista e in questo caso vedete sistema adrenergico equilibrio microbico intestinale sintesi proteica metafesione di zuccheri e poi nella panoramica colorata a sinistra ci sono le priorità con i numeri dove si può intervenire non è un test di allergia o intolleranza elementare non c'entra assolutamente nulla però poi in questa pagina 3 ancora vi dà delle priorità e vi dice cosa ha bisogno quella persona quindi una mappatura intelligente di oltre 800 fattori chiave dove abbiamo la priorità di intervento e dove possiamo fare finalmente in un approccio clinico integrato quello che è l'esigenza individuale di ogni cliente e paziente in questo caso voglio anche per alcuni dirvi che la tecnologia S-Drive ha iniziato a lavorarci molti anni prima del 2001 però qui iniziato lo sviluppo della tecnologia ci sono venuti per metterla sul mercato 15 anni e poi è stata lanciata nel 2016 quindi pensate quanto lavoro quanto ricerca e quanti investimenti sono stati fatti in questa straordinaria tecnologia in Italia abbiamo portata a febbraio 2017 quindi sono sette anni proprio fatti quest'anno ha tutte le certificazioni non è uno strumento per fare diagnosi ma come ci dice l'FDA ci serve per promuovere la buona salute con sano stile di vita motivare e incoraggiare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e di benessere perché perché il meccanismo epigenetico è reversibile perché la genetica scrive a penna l'epigenetica scrive a matita e noi vogliamo usare come facevamo il cancellino per cancellare quelli che sono i danni alle nostre cellule condivido con voi una mia grande soddisfazione perché questo ero io non è una foto ritoccata ve l'assicuro è qui a vostra disposizione questo sono io tre anni fa un ultimo dell'anno del covid questo sono io insomma febbraio marzo poco dopo questo sono io a luglio dell'anno scorso 2023 e questo sono io oggi quindi l'epigenetica sì ho fatto il test epigenetico perché naturalmente lo faccio anche a me ho capito cosa potevo migliorare ho cominciato a fare una dieta molto particolare grazie grazie a insomma dei suggerimenti importanti e penso che sia una bella testimonianza per tutti voi senza dimenticare un fatto importante possiamo fare tutto ma se non abbiamo l'amore per noi stessi se non diamo l'esempio se non incominciamo assumersi la responsabilità di questa quello che sta accadendo alle future generazioni e magari utilizzare degli strumenti che possono veramente fare la differenza non ne usciamo dobbiamo fare presto perché la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino grazie veramente di cuore a tutti ed è